Buongiorno, oggi potrebbe essere la giornata decisiva almeno per capire come potrebbe andare a finire la crisi, parleranno Renzi, stasera si saprà l'esito dell'incontro tra Salvini e Berlusconi e quindi una mezza idea ce la potremo fare. Nel frattempo osserviamo una cosa, cioè che la vita pubblica italiana non è niente altro che un infinito eterno congresso della sinistra post comunista impegnata a litigare con il suo peggior nemico, cioè se stessa. In questi giorni assistiamo all'ennesima scissione che probabilmente ci sarà. Renzi si staccherà dal PD, fonderà un movimento che pare si chiami Azione Civile, vediamo però come le cose andranno a finire. All'interno del PD pare che abbiano tutti l'esaurimento nervoso, cioè il fatto che Salvini abbia staccato la spina invece di unirli in un momento in cui un partito d'opposizione ha delle possibilità, loro invece sono esplosi, sono detonati, è venuto l'esaurimento nervoso e ci sono almeno 5-6 posizioni diverse. Allora Matteo Renzi abbiamo già detto non vuole votare perché vuole il tempo necessario per mettere in moto la macchina di azione civile. Zingaretti per lo stesso motivo vuole votare, anche se ieri ha lanciato qualche messaggio ai 5 Stelle, vuole votare perché così non ricandida i Renziani e li fa fuori tutti. Graziano Del Rio vuole il governo e il presidente, Franceschini vuole aprire i grillini, per calenda il PD addirittura è finito. Insomma un caos assoluto e completo. Però non c'è da stupirsi, infatti torniamo un attimo indietro, vi leggo un po' come sono andate le cose nel passato. Nel 91 sorge il PDS dalle ceneri del PC, Rifondazione Comunista, prima scissione se ne va. Cossuta però poi lascia Rifondazione Comunista e fonda il Partito dei Comunisti Italiani. Il Partito dei Comunisti Italiani a sua volta poi avrà 3.000 scissioni ma non ve le sto a raccontare, è anche Rifondazione. Nel 2007 il PDS diventa PDS che fa PDS, nel 2007 diventa PD e da qui è una valanga, nascono SEL, LEUM, REM, DEP e altre sigle che vi risparmio, tra l'altro non so neanche chi rappresentino, ma è sempre impossibile, invece è possibile, infatti possibile, è il nome del partito nato per scissione dal PD di Pippo Civati. A sinistra del PD come vanno le cose? Beh, allora è nata LEU, Liberi Uguali, che ha realizzato il vero capolavoro, cioè LEU è nata dall'unione di tre partiti, possibile che abbiamo già citato, Sinistra Italiana e MDP, ma attraverso una serie di scissioni si è moltiplicato per 5, cioè abbiamo adesso i tre partiti che vi ho appena nominato a cui si sono aggiunti Futura e Patria e Costituzione, capolavoro. Ah, tra l'altro può anche darsi che nel frattempo, mentre stiamo parlando in questi 3 minuti e 34 secondi, ci siano state almeno altre 6 o 7 scissioni di cui non abbiamo ancora notizia. Ma la sinistra alla fine a furia di scindersi diventerà grossa come un atomo, ma alla fine scinderanno anche quello, i vari capetti, e inceneriranno definitivamente il loro elettorato. Tra l'altro in Italia un partito che si occupi da sinistra di temi del lavoro è fondamentale, è necessario, ci deve essere, ma credo che gli elettori abbiano perso ogni speranza nelle facce che rappresentano attualmente la sinistra. Infatti la sinistra si occupa solo di due cose, potere, questa è la dimostrazione, e Bagianate è politicamente corretto, i temi importanti, lavoro, precariato e così via, zero. Questo significa solo una cosa, che non solo la sinistra è litigiosa e si scinde, ma che tra correnti diverse. La sinistra si è scissa dalla realtà e per questo è inutile.